Ciao, bentornati al programma televisivo di oggi trasmesso da spettacoli televisivi con notizie come Le recenti indiscrezioni hanno acceso i riflettori sul divorzio tra Ricky Martin ed il marito Juan Josef, alimentando voci di un presunto tradimento da parte del cantante, dopo l'annuncio congiunto della separazione, emergono ora dettagli scottanti La fine del matrimonio tra Ricky Martin ed il marito è stata annunciata pochi giorni fa L'ex coppia ha comunicato l'intenzione di divorziare attraverso una nota congiunta L'inaspettata decisione ha lasciato tutti senza parole Suscitando domande sui motivi che hanno spinto il cantante ed il pittore a rompere dopo sei anni di matrimonio Nel comunicato, Martin e Josef hanno sottolineato di essere rimasti in buoni rapporti, soprattutto per il bene dei figli che continueranno ad essere cresciuti ed educati da entrambi Secondo quanto riportato dal Daily Mail, una fonte vicina alla coppia avrebbe rivelato che i due fossero in crisi da anni e che la loro fosse una «relazione aperta» Pare che da circa due anni, Ricky Martin e Juan Josef, avessero dei problemi nel loro matrimonio, dei quali i loro cari erano perfettamente a conoscenza Questo modo di vivere la loro storia avrebbe iniziato a creare dei problemi nella coppia, in particolare negli ultimi tempi, tanto da portare i due coniugi alla decisione di separarsi A queste indiscrezioni, si aggiungono i rumors sulle reali cause del divorzio legate al presunto tradimento di Ricky Martin, si vocifera che il cantante abbia già una nuova fiamma, l'attore di film per adulti Max Barnes Secondo alcune fonti molto vicine a Martin, tra i due potrebbe essere sbocciato l'amore e pare che il cantante sia pazzo di Barnes Al momento si tratta solo di pettegolezzi che potrebbero rivelarsi infondati Nelle prossime ore, scopriremo se Ricky Martin interverrà per smentire le indiscrezioni sul suo conto Ricky Martin, marito in attesa di ulteriori sviluppi I fan del cantante di fama intenzionale rimangono in attesa di conferme o smentite Nonostante le voci di un presunto tradimento, l'artista e il suo ex marito hanno sottolineato l'importanza di mantenere una dinamica familiare sana per il bene dei loro figli Questo dimostra che, nonostante le difficoltà, l'amore ed il rispetto possono prevalere Grazie a tutti coloro che hanno guardato il video Premi il pulsante mi piace e commenta Per ricevere le ultime notizie e supportare il canale con il pulsante iscriviti al canale